Torna l'appuntamento ormai tradizionale con la settimana del benessere psicologico, giunta quest'anno alla sua ottava edizione. L'evento, promosso dall'Ordine degli Psicologi della Campania, da quest'anno coinvolgerà oltre ai comuni anche le scuole della Regione. Ed è questa la novità principale di questa iniziativa, nata nel 2010, organizzata in collaborazione con l'Anci, l'assessorato regionale all'istruzione e alle politiche sociali e l'ufficio scolastico regionale, e che è stata presentata presso la sede dell'Ordine degli Psicologi a Piazzetta Matilde Seramo a Napoli. Le iniziative sono tantissime, soprattutto quest'anno si concentrano nelle scuole, perché l'iniziativa è scuole amiche del benessere psicologico accanto a città amiche del benessere psicologico. Lavoreremo per tutta la settimana, a partire da lunedì mattina, per discutere e riflettere intorno al benessere psicologico qui in Campania. La Regione Campania sta investendo tanto sugli studenti, dal trasporto scolastico, l'assistenza specialistica, le borse di studio per gli studenti universitari per tutti gli eventi diritto, e con il programma Scuola Viva abbiamo deciso di aprire le scuole 450 al pomeriggio per creare degli spazi fisici in cui i ragazzi possano stare insieme. Migliorare il benessere della qualità della vita e delle relazioni richiede uno sforzo collettivo, essere sempre più adeguatamente comunità, rompere distanze, separazioni, discriminazioni, intervenire con umanità là dove ci sono ambiti di sofferenza e di emarginazione. Tutto questo è riassunto in questa settimana e questa volta si va anche verso le scuole, e credo che lì sia molto importante perché in particolare nel periodo della formazione fare un buon uso delle parole è molto importante. La settimana del benessere aprirà i battenti il prossimo 6 novembre dal Teatro Trianon con note di benessere il concerto di Sanità Ensemble per chiudersi il 12 novembre.